Per noi il burka è il simbolo di oppressione della donna, oltre che essere anche un pericolo per la sicurezza. Quindi è quanto mai opportuno che l'Europa rifletta, discuta su questo tema. L'Europa democratica, che si vanta di essere tale, non può certo essere indifferente a questo simbolo che, ricordiamo, non è che siano le donne a sceglierlo, se metterlo o no, gli viene imposto. Quindi è quanto mai opportuno che si mandi un messaggio chiaro dell'Europa. L'Europa non vuole il burka, non vuole nemmeno altri veli integrali. Questo anche e soprattutto in questo momento per motivi di sicurezza. Quindi mi auguro veramente che la Commissione europea accolga l'appello che spero arrivi da molti parlamentari. Abbiamo cautamente in più occasioni riflettuto su questo argomento, perché è un tema delicato, perché riguarda la libertà delle donne e riguarda però anche l'oppressione delle donne. Per alcune è una scelta, per la maggior parte è ovviamente un obbligo e quindi una violazione dei diritti umani. Credo che nel futuro sicuramente, essendo un argomento di grande attualità, ne parleremo certamente. Abbiamo innanzitutto cominciato a parlarne anche per quanto riguarda le bambine, cioè quindi i minori, perché spesso per i minori è davvero un'imposizione e non assolutamente una scelta. Quindi forse aprire un dibattito sul fronte dei diritti dei minori è un approccio più delicato, ma che affronta seriamente la questione.